Oggi sono d'Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari per parlarvi di colore ed in particolare di come scegliere il colore che ci sta meglio e allora andiamo Antonella io credo che scegliere in modo consapevole il colore da indossare sia molto importante per esempio io amo il beige ma Giancarlo mi dice che sono troppo chiara per indossarlo beh effettivamente Giancarlo ha proprio ragione perché tu hai un incarnato molto caldo quindi accostare questo colore al tuo viso in questo momento in cui la carnagione è ancora molto chiara non andrebbe bene però Carla ti do un consiglio potremmo abbinare questo colore che a te piace tanto nella parte sottostante e sopra invece metterci una bella blusettina con questi colori sì della terra ma con questo spruzzo di colore che ti starebbero benissimo Carla sei pronta? Sì credo di sì vediamo Eccoti qua wow Com'è? Sei bellissima Davvero davvero bella Però vorrei darti un'alternativa che ne dici? Per completare tutto l'outfit che ne dici di questo zainetto? Va tanto di moda è ritornato il total look borsa scarpa Vediamo Carla dato che ti piace tanto il beige che ne diresti di questa alternativa vestito sempre con base beige e questi colori che ti ravvivano tanto? Sì mi piace lo provo? Provalo Con l'arrivo dell'estate Carla il tuo incarnato diventerà ancora più caldo e c'è un colore secondo me che non può mancare nel tuo guardarruoba è il rosso E io provo anche questo Bello il rosso Però per un evento di sera? Che ne dici di questo abito nero che rimane sempre un colore neutro? Però se non vuoi usare con il total black che ne dici di questa fantasia? Eh dico che li provo tutti e due no? Grazie Attenere lo sai? Ho capito perché alcuni colori mi annoiano. E Carla, dipende sempre dal colore dell'incarnato. Ecco perché bisogna rivolgersi alle persone giuste.